È un pensionato di 70 anni, residente in un comune limitrofo a Via Reggio, l'ultima vittima della tasca forza antiprostituzione messa in campo dalla polizia municipale per contrastare il fenomeno tra Toro del Lago e la città. Fenomeno che si presenta regolarmente, di notte e di giorno, tra le proteste degli imprenditori del turismo e dei residenti. L'uomo è stato peccato lungo il viale dei Tigli da una civetta dei vigili urbani, in Borghese, mentre contrattava una prestazione sessuale. Gli agenti lo hanno atteso all'auto, parcheggiata, dove è tornato dopo aver consumato nella boscaglia. 80 euro di multa, come prevede il regolamento nuovo, approvato a marzo dal Consiglio Comunale, che sanziona chi frena, rallenta o si ferma in corrispondenza dei luoghi frequentati dalle lucciole. Questa è la prostituzione che contrasta con l'articolo 4 del regolamento per il decoro urbano e della Polizia Municipale, che è stato approvato dal Consiglio Comunale. E quindi con l'articolo 4,12 è previsto delle sanzioni per coloro che frequentano questi luoghi e con il loro comportamento creano problemi alla circolazione stradale. Lotta al degrado anche sul fronte ai rifiuti. Chi getta sacchetti della spazzatura in strada o fuori dai cestini rischia multe salatissime. Si è sorpreso dai vigili urbani o beccato dalle telecamere che però a Via Reggio devono ancora essere potenziate. In città stiamo notando che spesso si verificano questi luoghi, però non si accorga perché magari sono osservati e le sanzioni superano i 300 euro.